Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 11 maggio. 11 maggio. 11 maggio il pensiero corre là, il pensiero corre a quell'11 maggio, il 11 maggio del 2001, 19 anni fa, quando il Milan batte 6 a 0 l'Inter. Una indimenticabile partita, emozionante, spettacolare. Il Milan batte 6 a 0 l'Inter in quell'11 maggio, grazie alla doppietta subito di Comandini. Poi nel secondo tempo segnerà un'altra doppietta a Shevichenko, il gol su punizione di Giunti, la rete finale di Serginio a chiudere una giornata veramente straordinaria. E per ricordare questa partita avremo oggi sul mio profilo Instagram, in diretta Instagram, chi? Avremo uno dei protagonisti, dicevo, il difensore danese Thomas Helweg, già protagonista nella vittoria del campionato del centenario, dello scudetto del centenario, due anni prima. Non dimentichiamo che in panchina veniva occupata da quello splendido uomo che era Cesare Maldini, vecchio cuore, insieme a Mauro Tassotti, che poi in quegli anni 2000 sarà l'assistente numero uno di Carlo Ancelotti del Milan dei Meravigliosi. E a proposito di giocatori meravigliosi, veniamo subito al presente, perché oggi è una giornata importante, torna nel primo pomeriggio Zlatan Ibrahimovic, atterra nel solito aeroporto privato, arriva nel primo pomeriggio e andrà subito in quarantena nella sua casa in zona Porta Garibaldi. Quindi torna Ibrahimovic, non dimentichiamo che è stato l'ultimo gol, l'ha proprio realizzato lui, che cercherà di continuare con questa sua meravigliosa tradizione, quella di segnare sempre, in tutti i campionati, andare sempre in doppia cifra. Mancano, mi sembra, sei reti per arrivare in doppia cifra anche nel Milan, però indubbiamente Zlatan Ibrahimovic è atteso, con il solito affetto, con il solito amore da parte dei tifosi del Milan, che si augurano, come ho già detto ieri, che possa anche rimanere nella prossima stagione. Quindi oggi, giorno di riposo per i giocatori del Milan, riprenderanno domani con la doppia sessione, sempre totalmente individuale, dopo la bella notizia dell'altro ieri, che parlava di nessun giocatore positivo, dopo gli esami clinici. Zlatan Ibrahimovic, ci auguriamo che possano trovare il tempo lui e la dirigenza, lui e Ivan Gazidis, per incominciare a parlare, per incominciare a mettere le basi, speriamo positive, ma soprattutto ci auguriamo che possa esserci già una chiarificazione, perché Zlatan Ibrahimovic deve dire quali siano le sue intenzioni, deve chiedere quali siano le intenzioni del Milan. Quindi torniamo sempre su questo argomento. Gli argomenti, ripeto, è inutile parlare degli altri giocatori, solo poesia, a noi interessa prosa. La prosa oggi è Donnarumma, Ibrahimovic, Maldini e Ragnik. Questa è la prosa e dobbiamo tenervi aggiornato giorno per giorno. Tutto il resto è poesia, sono belle frasi, sono cene di mercato come quella che riguarda Pachetà, che dovrebbe andare come Buonaventura. No, a noi interessa la prosa dei giocatori che potrebbero, o del futuro, anzi non giocatori, diciamo dell'assetto societario della prossima stagione. Con i giocatori come Zlatan Ibrahimovic, come i dirigenti come Maldini, come la parte tecnica come Ragnik, come i giocatori come Donnarumma. Questo è quello che ci interessa. Già oggi però Zlatan, come ha detto, in maniera seria torna, 14 giorni di quarantena e poi speriamo che si possa unire al gruppo. Vuol dire che il gruppo si allena, vuol dire che c'è una parvenza di normalità. Intanto nel primo pomeriggio, oggi, ritorna Ibra Supremacy. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegati.